Sono 5, un altro assessore della giunta emiliano si dimette, Michele Mazzarano, dopo un sospetto voto di scambio denunciato da Striscia la Notizia. Emiliano perde pezzi, la nomina di Di Cagno a Brescia all'acquedotto pugliese è indigesta per Boracino di Noia Sinistra che passa ufficialmente all'opposizione. Antiusura Conti il Rosso, dopo 24 anni la fondazione guidata da Monsignor D'Urso chiude i bilanci col segno meno, indice puntato contro le istituzioni. Voragina in via Zara si rompe una condotta fognaria e manda in tilti il traffico tratto di strada chiuso fino a domani. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. La politica in primo piano, l'assessore allo sviluppo economico della regione Puglia Michele Mazzarano si è dimesso nel primo pomeriggio per un presunto voto di scambio denunciato da Striscia la Notizia. Allora ripercorriamo i fatti nel nostro servizio. Di spalle, incappucciato per non rivelare la propria identità, parla di un accordo con l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Mazzarano, capogruppo PD in regione. Il pagamento del fitto di un locale a Taranto per il periodo della campagna elettorale in cambio del posto di lavoro per i due figli. E il Tg Satirico striscia la notizia a mandare in onda l'audio che in caso di verifica dell'autenticità potrebbe diventare molto compromettente per l'assessore regionale. Alessio Giannone, in arte Pinuccio, fa ascoltare in presa diretta la registrazione della conversazione a Mazzarano che però sceglie di non commentare. L'assessore si dichiarerebbe vittima di un'estorsione per cui, sempre secondo quanto riferito nel servizio, starebbe per partire una denuncia. E a margine della conferenza stampa in cui il consigliere di Noia Sinistra per la Puglia, Cosimo Borracino, ha annunciato la sua uscita dalla maggioranza in consiglio, si commenta quella che potrebbe diventare l'ennesima tegola per la Giunta Emiliano. Se ci sono dei reati, la magistratura deve fare il suo dovere. Non tocca a me fare il catone e il censore di questa vicenda. Il Presidente Emiliano, se vorrà prendere dei provvedimenti, in tal senso è libero di farlo. E con le dimissioni di Michele Mazzarano sale a 5 il numero degli assessori regionali della Giunta Emiliano che in quasi tre anni di amministrazione si sono dimessi. Mazzarano è il terzo del Partito Democratico. Il 7 febbraio scorso, in piena campagna elettorale per le politiche, fu l'assessore regionale dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, indagato per corruzione e turbativa d'asta a comunicare al Governatore Michele Emiliano la sua decisione di rimettere le deleghe. Prima di lui, nel luglio 2017, l'assessore regionale dei trasporti Gianni Giannini. A dimettersi, dopo aver appreso di essere indagato in un'inchiesta su presunte tangenti in cambio di appalti in alcuni comuni del Barese. Nemmeno una settimana dopo si dimise, per motivi politici e non giudiziari, l'assessore all'Ambiente Mimmo Santorsola. A pochi mesi dall'avvio della legislatura, nell'ottobre 2015, si era dimesso per ragioni di opportunità. L'allora assessore regionale al turismo Gianni Liviano, dopo la pubblicazione di un articolo in cui si parlava di un appalto per organizzare gli stati generali della cultura, affidato dalla regione con procedura diretta ad un amico dell'assessore. E Cosimo Borracino, lo avete sentito prima nel commento alla decisione di dimettersi di Michele Mazzarano, consigliere regionale di Noia Sinistra per la Puglia. Appunto, Borracino si dichiara ufficialmente all'opposizione di Michele Emiliano e spiega. La nomina di Simeone di Cagnobresce in Acquedotto Pugliese non è che l'ultimo tassello. Sentiamo. Dalla gestione della sanità, dal piano del riordino ospedaliero, dalla chiusura di ospedali, dalla mancata attivazione di posti letto e poi il disagio sull'agricoltura con il mancato avvio del PSR con grossissime difficoltà in uno dei settori primari dell'economia pugliese e poi il disagio sulla volontà di privatizzare aeroporti di Puglia e poi quando c'è stato anche in atto l'idea della privatizzazione di Acquedotto Pugliese e poi la privatizzazione dei servizi del diritto allo studio universitari. Insomma, una visione strategica che già da tempo non convinceva più. Cosimo Borracino, consigliere di Noia Sinistra per la Puglia, si dichiara ufficialmente all'opposizione. Stacchiamo la spina Michele Emiliano, spiega e precisa che la nomina in ACUP dell'ex sindaco di Bari e rappresentanti di spicco del centrodestra barese Simeone di Cagno a Brescia non è che l'ultimo tassello di un percorso non condiviso già da tempo. La classica goccia che fa traboccare il vaso, continua Borracino, che contesta l'operato del governatore pugliese non solo nel merito ma anche nel metodo. Basta con la logica dell'uomo solo al comando. Parla degli assessori regionali come di semplici parvenù perché il comando, spiega, è gestito da un piccolo gruppo di fedelissimi. Dopo tre anni conclude, abbiamo certezza che non è più possibile la coalizione con una sinistra in cui lui è presente. La nomina di Simeone di Cagno a Brescia non è il nome di uno qualsiasi, è stato l'ex sindaco di Bari, è stato il competitore di Michele Emiliano, è stato un deputato di Forza Italia, uno stretto collaboratore di Tatarella e quindi da questo punto di vista entra in una filiera, in una logica che vede sempre più uomini dalla destra al comando. La cronaca a morte sospetta a Bari di un uomo di 72 anni trovato cadavere nella sua abitazione a un appartamento in via Garruba nel quartiere Libertà. Ad accorgersi della tragedia la figlia della vittima che nella giornata di ieri lo aveva chiamato ripetutamente al cellulare senza mai avere risposta. Una volta entrata in casa dove l'uomo viveva solo, il macabro ritrovamento, il corpo del 72enne era riverso a terra e riportava un taglio profondo sulla testa. Sul pavimento numerose tracce di sangue, non è ancora chiaro se si tratti di morte accidentale o di un omicidio. Domani con molta probabilità verrà effettuato l'esame utoptico dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. E oggi a Bari si è verificata la rottura improvvisa della condotta fognaria che collega l'impianto di sollevamento di Piazza Diaz al depuratore di Bari Est. I tecnici dell'Acquedotto Pugliese sono intervenuti. Isolato il tratto e individuata la perdita, in queste ore sono in corso i lavori di riparazione. Le operazioni proseguiranno ininterrottamente sino a ripristino della piena funzionalità della condotta che si prevede salvo imprevisti entro la giornata di domani. Il tratto stradale interessato lungo via Zara è attualmente interdetto al traffico. Per la prima volta dopo 24 anni, la Fondazione Antiusura, San Nicola e Santi Medici di Bari presenta il suo bilancio in rosso. Nonostante le 500 persone ascoltate che hanno chiesto aiuto, solo nel 2017 le istituzioni continuano con il loro silenzio. A denunciarlo Monsignor Alberto Durso, che promette saremo sempre con il cuore nel Vangelo accanto alle famiglie. Sentiamo. Quando rivolgiamo una domanda vorremmo delle risposte perché i fondi sono molto limitati e io non mi rivolgo soltanto al governo. Qui c'è anche un Parlamento, o c'è stato. Mi rivolgo anche alla regione Puglia. Mi rivolgo anche ai sindaci della nostra regione che non possono ignorare la presenza di una fondazione che aiuta le persone del territorio. Questo è un problema della quotidianità della nostra gente che non riesce a portare il pane quotidiano a casa perché manca il lavoro o ha perduto il lavoro e sta perdendo in tanti casi la casa e sta perdendo tanti altri beni immobili. In ogni caso la serenità la sta perdendo. E stanno aumentando forse i furti. Stanno aumentando la potenza della malavita. Perché quando le persone sono nel bisogno chi è nel bisogno è più facilmente raggiungibile e tentato di avere un aiuto da chi glielo può dare in quel momento. Tanto è vero che continua anche oggi continua la diceria che qualche usuraio viene chiamato benefattore. C'è ancora un colpo di coda dei risultati elettorali delle politiche del 4 marzo e c'è un caso Bari secondo il candidato alla Camera con libri uguali l'Avvocato Michele Laforgia che oggi ha denunciato i seggi di Camera e Senato non sono stati assegnati con gli stessi criteri della stessa Corte d'Appello. Potrebbe essere l'unico caso in Italia. Sentiamo. È successo che sono stati violati i primi tre articoli della Costituzione Repubblicana. Quello che stabilisce che la sovranità appartiene al popolo quello che attribuisce a tutti i cittadini uguale dignità è il principio di uguaglianza. Michele Laforgia non ci sta. Il candidato alla Camera per liberi uguali escluso dalle elezioni appena concluse torna a parlare di una legge elettorale che definisce incostituzionale. Alla vigilia dell'insediamento del Parlamento a destare scalpore sono i criteri di assegnazione dei seggi diversi e opposti per Camera e Senato. Criteri adottati dallo stesso ufficio elettorale dalla stessa Corte d'Appello nella medesima regione. Tanto per intenderci, i seggi affidati all'EU per la Camera da Rosatellum dovevano essere sei a Bari e sette a Lecce. Ma in base a calcoli previsti dalla legge stessa e basati su un coefficiente ricavato dividendo il numero degli elettori per il numero dei seggi i seggi di Bari sono diventati cinque quelli di Lecce nove escludendo di fatto la forgia dei giochi e violando, secondo l'avvocato barese il principio di rappresentanza salvaguardato invece per il Senato. È avvenuto che mentre per il Senato è stata applicata la legge come noi riteniamo debba essere applicata cioè salvaguardando il numero dei seggi per popolazione alla Camera invece questo non sia avvenuto. A noi questo pare un assurdo che viola il principio di ragionevolezza di uguaglianza di pari dignità e alla fine la sovranità popolare. Questo non è un flipper ha continuato la forgia che ha parlato oggi nel suo comitato anche questa è ingiustizia e non possiamo rimanere immobili davanti ad una democrazia dell'algoritmo. Questa legge elettorale ha frantumato i criteri della rappresentanza non è una cosa che si possa accettare semplicemente con un'alzata di spalle. La cronaca giudiziaria la corte d'assiste di Bari è al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato ha condannato la pena dell'ergastolo i due pregiudicati baresi Leonardo Campanale 48 anni e Gianfranco Caputi 30 ritenuti responsabili dell'omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso del 58enne Nicola Lorusso ucciso l'11 gennaio del 2015 Leonardo Campanale boss dell'omonimo clan del quartiere San Girolamo di Bari avrebbe ucciso Nicola Lorusso della famiglia mafiosa rivale per vendicare la morte del padre Felice Campanale era stato ammazzato nell'agosto del 2012 su ordine di Umberto Lorusso figlio di Nicola l'11 gennaio del 2015 dopo decine di tentati omicidi agguati e sparatori nelle strade del rione a nord di Bari arrivò la risposta a quel diritto con l'assassinio di Nicola Lorusso colpito da 11 colpi di Kalashnikov mentre era in compagnia della moglie nei pressi della pineta di San Francesco e la presenza di numerose donne e bambini il fenomeno infortunistico in Puglia ha mille volti meno incidenti sul luogo di lavoro ma più malattie professionali l'Inail ha presentato oggi il rapporto annuale su un fenomeno su cui bisogna ancora lavorare sentiamo meno denunce di infortuni più malattie professionali e il bilancio sul fenomeno infortunistico in Puglia presentato dall'Inail nel 2017 le denunce sono state 30.395 meno il 4,08% rispetto al 2012 di queste la maggior parte si sono registrate nella provincia di Bari il settore maggiormente colpito è quello della sanità e dell'assistenza sociale con 2203 denunce in linea con i dati relativi a 5 anni fa al contrario del settore agricolo e ittico che ha registrato nel 2017 il numero minore di denunce 230 in calo anche i decessi sul lavoro meno il 17% in 5 anni a Bari 13 nell'ultimo anno a toccare il picco invece Foggia con ben 22 morti a subire un incremento le denunce per malattie professionali delle oltre 3.000 in Puglia quasi un terzo arrivano dalla provincia di Taranto un dato preoccupante tanto quanto due nuovi aspetti del fenomeno infortunistico l'incidenza degli infortuni con i mezzi di trasporto rispetto sia agli incidenti mortali e agli infortuni mortali che ne rappresentano quasi il 50% ovvero al fenomeno ad esempio dell'incidenza degli infortuni che occorrono ai lavoratori extracomunitari che operano come si sa nei settori più a rischio numeri e dati che nel complesso evidenziano un trend positivo frutto di una ripresa dell'occupazione in Puglia pari al 2% ma anche di una politica capillare di prevenzione in qualche maniera delle buone prassi anche tutto il sistema delle regole legate all'entrata in vigore del testunico 81 che già quest'anno facciamo proprio un decennio e anche le attività prevenzionali che noi mettiamo in campo sia nella scuola sia in partenariato con enti bilaterali o con istituzioni pubbliche abbia sicuramente una funzione nell'effetto di riduzione del fenomeno infortunistico Bene ci fermiamo breve pausa pubblicitare restate con noi tra poco commenteremo i principali fatti di questa giornata con il giornalista scrittore Michele Cristallo eccoci ancora qui in diretta pronti per commentare i principali fatti di questa giornata allora saluto Michele Cristallo giornalista scrittore ciao Michele benvenuto grazie buonasera allora come sempre partiamo dal nostro live il giovedì è dedicato ai live di Confindustria oggi scopriamo l'impresa De Marco da Bari l'inviata di questa sera per noi è Cristina Ferrigni Cristina buonasera ben trovati il nostro viaggio tra le eccellenze di Confindustria Bari e Batte Ance questa sera ci porta nella impresa De Marco un'impresa edile ma che si occupa anche del restauro di immobili sottoposti al codice dei beni culturali architettonici io sono in compagnia dell'ingegner Ignazio Di Toma buonasera buonasera allora quali caratteristiche deve avere un'azienda edile oggi per competere sul mercato voi siete da oltre 25 anni sì nati nel 1990 da Pasquale De Marco appunto il nostro amministratore che consolida quella che è l'esperienza familiare nell'arte del costruire in un certo senso siamo un'azienda che prevalentemente lavora nel settore del restauro quindi appunto immobili sottoposti alla tutela della sovrintendenza immobili monumentali e allora lo vediamo qui dalle immagini opere di restauro manutenzione di beni immobili monumentali ma anche progettazione e realizzazione di opere edili pubbliche e private di qualsiasi genere voi siete intervenuti sul restyling di via Asparano la famosa via dello shopping di Bari che ha cambiato completamente volto assolutamente sì diciamo che la nostra impresa lavora prevalentemente nell'ambito appunto del restauro nell'ambito archeologico e nell'ambito delle nuove costruzioni sia pubbliche che private diciamo che al momento il cantiere più famoso è quello di via Asparano però sono in atto altri interventi sì assolutamente altri interventi oltre a quello di via Asparano ad esempio possiamo vedere un lavoro realizzato a Firenze alla biblioteca nazionale centrale in cui sono stati realizzati i restauri dei gruppi scultori dei prospetti rifacimento delle coperture il comune di Modugno un restauro un gioiellino particolare della città di Modugno in cui sono state come via Asparano anche rinvenute evidenze archeologiche un cantiere realizzato tempo fa che rappresenta la filosofia il cuore dell'impresa è proprio il lungomare di Brindisi cioè un cantiere cugino di via Asparano in cui si è unita l'arte del restauro con quella dell'archeologia e allora degli interventi sui siti archeologici ne parleremo tra poco con un esperto intanto restituisco la linea allo studio Alessandra Grazie Cristina tra poco con te Allora noi partiamo dalla politica intanto dal nuovo terremoto che si abbatte sulla giunta Emiliano perché nel primo pomeriggio si è dimesso l'assessore dello sviluppo economico Michele Mazzarano dopo un presunto voto di scambi che sarebbe avvenuto durante la campagna elettorale e è stato come dire denunciato da un servizio andato in onda su striscia la notizia qui si consuma anche un caso un po' politico nel senso che intanto Mazzarano ha deciso di dimettersi per evitare che la bufera mediatica potesse come dire colpire anche la giunta regionale giunta regionale che però non è nuova perché se pensiamo che siamo a quota cinque assessori già dimessi dalla giunta Emiliano Michele per stare agli avvenimenti delle ultime ore se sommiamo le dimissioni di Mazzarano con le dichiarazioni di ieri del consigliere Borracino e se poi facciamo un pensierino anche alle dimissioni dell'assessore Caracciolo dobbiamo renderci conto che il clima nella giunta regionale non è proprio dei migliori non soltanto ma Emiliano si trova anche al centro di una serie di critiche che vengono non soltanto dai partiti d'opposizione ma anche dalla sua stessa maggioranza all'interno del Partito Democratico e della maggioranza nel consiglio regionale c'è un malessere e non da oggi per cui la cosa migliore la scelta più opportuna che Emiliano dovrebbe fare nelle prossime ore è proprio quello di organizzare una sorta di verifica un approfondimento dei vari problemi e delle cause che hanno determinato questa situazione se a questo aggiungiamo anche le polemiche che si annunciano dopo la nomina di Simeone di Cagno a Brescia alla presidenza dell'OECDOTTO pugliese ci rendiamo conto che il clima è proprio un clima di tensioni tensioni che possono sfociare anche in una crisi e se poi aggiungiamo a questo anche il malessere che è all'interno del Partito Democratico all'indomani delle elezioni per citare un esempio l'ingresso nel consiglio regionale della consigliera comunale di Bari Mauro Di Noia che non è gradita al gruppo del Partito Democratico aggiungiamo anche le aspirazioni di consiglieri regionali che spingono per essere nominati assessori perché le deleghe nelle mani di Emiliano ormai sono molteplici sono più di uno ci rendiamo conto che c'è bisogno proprio di una verifica per cercare di interpretare la situazione e porre un minimo di programma per l'attività futuro della regione regionale i problemi sono tanti che vanno dalla sanità all'agricoltura ma anche al turismo a considerare le ultime rilevazioni per quanto riguarda le presenze in Puglia quindi tutto questo presuppone veramente una riflessione seria su quello che è la situazione attuale su quello che può essere l'immediato futuro della regione insomma possiamo dire che la situazione è tutt'altro che rosea se pensiamo Emiliano che perde assessori Emiliano che perde pezzi tensioni nella maggioranza insomma c'è una eco delle politiche che si fa ancora sentire abbiamo visto anche nel nostro telegiornale ci sono poi i delusi che non accettano anche il metodo di valutazione di assegnazione dei seggi nei collegi come per esempio la denuncia dell'avvocato Michele Laforgia che parla addirittura di un vero e proprio caso Bari unico in Italia ma qui siamo proprio alle sorprese di ora in ora nelle ultime ore per esempio il senatore Michele Boccardi che sembrava eletto invece non risulta più eletto perché il seggi è andato alla signora Carmela Venuto di Molfetta molto vicina al senatore all'ex senatore Azzolini e la situazione è in movimento in maniera potremmo dire anche paradossale lo stesso avvocato Laforgia per esempio lamenta che al senato è stata interpretata la legge elettorale Rosatellum in maniera corretta mentre alla camera no alla camera lui non si trova non figura eletto perché il seggio è stato segnato nelle cese ad un candidato che ha riportato meno voti di Laforgia e Laforgia sta studiando per la presentazione di un ricorso Allora diciamo che grandi movimenti e sono in movimento anche i deputati riconfermati o i neodeputati eletti di queste politiche alla volta di Roma intanto perché domani ci sarà l'ingresso si riuniranno le camere e poi ci sarà una battuta d'arresto probabilmente perché non sappiamo ancora che fine farà la formazione del nuovo governo domani le due assemblee si riuniscono per nominare i rispettivi presidenti finora non c'è nessuna intesa sembrava fatta l'intesa tra la Lega e il Movimento 5 Stelle per assegnare il Presidente della Camera al Movimento 5 Stelle e il Presidente del Senato alla Lega però la Lega all'interno della sua coalizione aveva raggiunto un accordo perché il candidato della coalizione fosse Paolo Romani di Forza Italia però il Movimento 5 Stelle ha posto un veto deciso non votiamo i condannati o gli indagati e come andrà a finire non si sa per gli eventi diciamo ecco in queste ore dovrebbe essere in corso la riunione dei capi gruppo convocata da Di Maio del Movimento 5 Stelle il Partito Democratico aveva dichiarato di non partecipare perché dice non partecipiamo a decisioni già prese in precedenza quindi la situazione è particolarmente complessa domani mattina si andrà al voto e si andrà al voto senza un'intesa precisa dobbiamo ricordare che alla Camera la prima votazione elegge il Presidente che riporta i due terzi dei componenti dell'Assemblea quindi saranno necessari 420 vote mentre nella seconda e nella terza votazione è sufficiente che il candidato riporti i due terzi dei votanti e poi se non sarà eletto il Presidente si andrà avanti con la maggioranza assoluta al Senato le procedure sono leggermente diverse ma le difficoltà sono analoghe perché nelle prime due elezioni il candidato dovrà riportare la maggioranza assoluta dei componenti poi nella terza la maggioranza assoluta dei votanti e poi si andrà avanti col ballottaggio sino alla elezione del Presidente però ripeto finora non c'è un'intesa quindi domani è tutto un'incognita poi un'incognita ancora maggiore sarà quella della formazione del Governo perché la situazione lì si presenta ancora più complicata e allora torniamo al nostro live in compagnia di Cristina Ferrigni nella ditta De Marco che per intenderci è l'impresa che sta realizzando la nuova via Sparano Cristina torno da te lo avevamo anticipato nel primo collegamento la De Marco SRL si avvale anche della figura di un archeologo perché realizza opere di restauro e di manutenzione di beni immobili monumentali parliamo di chiese monasteri santuari palazzi storici sottoposti a tutela vediamo sullo sfondo gli scavi archeologici sul parco di Rudi e Alecce vediamo le immagini a scorrere io sono in compagnia dell'archeologo Michele Cuccovillo buonasera buonasera sì le immagini che vediamo praticamente non fanno altro che concentrare in pochi minuti il lavoro svolto dall'impresa nel corso di più di un anno di lavori un anno di lavori che hanno consentito attraverso uno scavo stratigrafico estensivo di portare alla luce interamente per la prima volta un intero anfiteatro un monumento quindi pubblico di grande importanza per la città antica di Rudie una città che si sviluppava in prossimità della più famosa forse Lupie siamo comunque all'interno del territorio comunale del comune di Lecce bene ci spostiamo a Bari noi siamo un po' curiosi di capire anche i reperti che sono stati trovati durante i lavori di scavo su via Sparano sì in via Sparano nel corso dei lavori di realizzazione della Fogna Bianca abbiamo individuato del materiale archeologico riferibile molto probabilmente al periodo tardo antico alto medievale in accordo con la sovrintendenza con la direzione dei lavori abbiamo seguito un mirato approfondimento che ci ha consentito di individuare delle strutture di tipo funerario che tipo di reperti sì i reperti in particolare ecco tombe a fossa caratterizzate anche dalla presenza di più individui sovrapposti con minimi elementi di corredo in questa tomba ad esempio abbiamo rinvenuto una coppia di orecchini in bronzo e dall'aria circostante una serie di monete che ci consentono di datare il contesto alla seconda metà del quinto inizi del sesto secolo dopo Cristo benissimo grazie per questa nota tecnica noi ci vediamo tra poco ancora qui dalla azienda De Marco restituisco la linea allo studio Alessandra e allora noi per chiudere parliamo di dei bilanci rosso della fondazione anti usura dopo ben 24 anni chiude in passivo una fondazione che lavora molto per combattere l'usura e anche i fenomeni come dire più subdoli della società ma chiude in passivo perché gli interventi sono aumentati in maniera straordinaria negli ultimi tempi e pensa che secondo le ultime stime i pugliesi spendono addirittura 6 miliardi di euro per grattevinci e altre sciocchezze analoghe inseguendo la chimera di una vincita milionaria c'è proprio un aumento di questi dipendenti dal gioco c'è proprio un atteggiamento compulsivo di queste persone sono migliaia e migliaia e la maggior parte di questi sono persone che non hanno un reddito da benestanti e spendono le loro misere risorse proprio inseguendo questa chimera il Monsignor Turso ha rivolto un ennesimo appello perché anche le istituzioni intervengano per educare queste persone ad uscire dalla dipendenza ma il percorso è molto difficile e il fatto che questa fondazione chiude il bilancio in passivo è anche un altro elemento di preoccupazione perché finora in questi anni molti interventi sono stati realizzati in favore di gente che non aveva più nemmeno non solo di che mangiare ma nemmeno di pagare bollette o di estinguere debiti contratti proprio per il gioco e molta gente è uscita dalla dipendenza e quindi vuol dire che il lavoro della fondazione la presenza della fondazione è particolarmente prezioso per cui forse dovrebbero intervenire anche le istituzioni e qualche benefattore benestante per cercare di alimentare e di sostenere il bilancio di questa organizzazione bene siamo in chiusura di questo spazio non mi resta che ringraziare Michele Cristallo grazie per essere stato con noi Michela grazie a voi buonasera e ci fermiamo pausa pubblicitaria e torniamo tra poco con altre notizie grazie a tutti sono cinque un altro assessore della giunta Emiliano si dimette Michele Mazzarano dopo un sospetto voto di scambio denunciato da striscia la notizia Emiliano perde pezzi la nomina di Di Cagno a Brescia l'Acquedotto Pugliese è indigesta per Boracino di Noia Sinistra che passa ufficialmente all'opposizione anti-usura Conti il Rosso dopo 24 anni la fondazione guidata da Monsignor D'Urso chiude i bilanci col segno meno indice puntato contro le istituzioni Voragina in via Zara si rompe una condotta fognaria e manda in tilt il trattico tratto di strada chiuso fino a domani eccoci ancora qui in diretta nella terza parte del nostro telegiornale riprendiamo dalla politica l'avete sentito dai nostri titoli l'assessore allo sviluppo economico Michele Mazzarano si è dimesso nel primo pomeriggio per un presunto voto di scambio denunciato da un servizio di striscia alla notizia e allora i fatti li raccontiamo nel nostro servizio di spalle di spalle incappucciato per non rivelare la propria identità parla di un accordo con l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Mazzarano capogruppo PD in regione il pagamento di un fitto di un locale a Taranto per il periodo della campagna elettorale in cambio del posto di lavoro per i due figli e il Tg Satirico striscia la notizia a mandare in onda l'audio che in caso di verifica dell'autenticità potrebbe diventare molto compromettente per l'assessore regionale Alessio Giannone in arte Pinuccio fa ascoltare in presa diretta la registrazione della conversazione a Mazzarano che però sceglie di non commentare l'assessore si dichiarerebbe vittima di un'estorsione per cui sempre secondo quanto riferito nel servizio starebbe per partire una denuncia e a margine della conferenza stampa in cui il consigliere di Noia Sinistra per la Puglia Cosimo Borracino ha annunciato la sua uscita dalla maggioranza in consiglio si commenta quella che potrebbe diventare l'ennesima tegola per la Giunta Emiliano se ci sono dei reati la magistratura deve fare il suo dovere non tocca a me fare il catone e il censore di questa vicenda il Presidente Emiliano se vorrà prendere dei provvedimenti in tal senso è libero di farlo e con le dimissioni di Michele Mazzarano sale a 5 il numero degli assessori regionali della Giunta Emiliano che in quasi 3 anni di amministrazione si sono dimessi Mazzarano il terzo del Partito Democratico il 7 febbraio scorso in piena campagna elettorale per le politiche fu l'assessore regionale all'ambiente Filippo Caracciolo prima di lui nel luglio 2017 era stato l'assessore regionale ai trasporti e ai lavori pubblici Gianni Giannini nemmeno una settimana dopo si dimise l'assessore all'ambiente Mimo Santorsola a pochi mesi dall'avvio della legislatura nell'ottobre del 2015 si era dimesso per ragioni di opportunità l'allora assessore regionale al turismo Gianni Liviano siamo alla cronaca morte sospetta a Bari di un uomo di 72 anni trovato cadavere nella sua abitazione in un appartamento in via Garuba al quartiere Libertà ad accorgersi della tragedia la figlia della vittima che nella giornata di ieri lo aveva chiamato ripetutamente con il cellulare senza mai ottenere risposta una volta entrata in casa dove l'uomo viveva da solo il macabro ritrovamento il corpo del 72enne era diverso a terra riportava un taglio profondo sulla testa sul pavimento diverse tracce di sangue non è ancora chiaro se si tratti di morte accidentale o di un omicidio domani con molta probabilità verrà conferito l'esame autoptico all'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari allora andiamo al nostro live ultimo collegamento con l'impresa De Marco vi raccontiamo chiaramente le eccellenze imprenditoriali del nostro territorio di Confindustria allora Cristina torno a te ben trovati questa volta sono in compagnia dell'ingegnere Antonio Allegrini allora l'azienda De Marco SRL adottato un sistema di gestione integrato per il raggiungimento degli obiettivi sulla qualità della sicurezza rispetto dell'ambiente in cosa consiste? sì cominciamo col dire che la De Marco SRL ha riposto sempre particolare importanza a tutto ciò che riguarda le problematiche ambientali della qualità della sicurezza relativamente a quelle che sono le fasi lavorative d'impresa d'altra parte datori di lavoro dipendenti e tutti gli operai sono periodicamente formati ed informati grazie a dei corsi specializzati in maniera tale che poi tutta la conoscenza acquisita venga tradotta sul campo in che cosa? in una riduzione chiaramente dell'impatto ambientale ma anche in un risparmio cioè quindi un ritorno economico aziendale che si traduce in minori sprechi e minori consumi è importante dire che voi avete aderito ad un protocollo volontario EMAS di cosa si tratta? sì cominciamo col dire che EMAS è un acronimo che sta per Eco Management and Audit Scheme cioè in pratica è un sistema di ecogestione ed audit in pratica tramite un'analisi quindi una valutazione analitica statistica di tutti i dati di ingresso e di uscita quindi l'input e output dei flussi gestionali abbiamo analizzato quelli che sono gli aspetti ambientali diretti andando poi a trovare e analizzare quelli che sono i cosiddetti fattori ambientali analitici l'EMAS nella qualità dell'ISPRA quindi istituto superiore per la protezione e la ricerca dell'ambiente ci ha rilasciato una registrazione secondo tre codici ANCE mi scusi NALCE che sono dei codici numerici che individuano delle attività economiche industriali specificatamente per quanto riguarda l'edilizia residenziale e non residenziale per la quale siamo l'undicesima o meglio rientriamo all'interno delle undici imprese ad aver ottenuto questa registrazione per quanto riguarda invece la preparazione e l'allestimento dei cantieri quindi codice 43.10 siamo all'interno del range di tre imprese a livello nazionale e per quanto riguarda il codice 25.10 quindi lavorazioni metalli essenzialmente parliamo di porte infissi quindi laminati risultiamo esse ad oggi l'unica impresa sull'intero territorio nazionale mi sembra che si dia grande importanza all'impatto ambientale naturalmente certo la problematica è che le piccole e medie imprese tutt'oggi guardano questo budget finanziario da adottare per quanto riguarda l'impatto la mitigazione come un costo in realtà se ben vediamo c'è sempre un ritorno economico proprio per la riduzione degli specchi dei consumi grazie all'ingegnere Largrini grazie a voi per averci seguito per questa puntata tra le eccellenze di Confindustria e Ancetutto restituisco la linea allo studio grazie Cristina grazie ai tuoi ospiti noi parliamo di trasporto pubblico locale perché tante avarie nei nuovi bus se lo sono chiesti i componenti della commissione consigliare enti partecipati che questa mattina si sono recati nella sede dell'AMTAB per verificare e chiedere personalmente sentiamo l'intervista del consigliere di opposizione Michele Piccaro consigliere autobus nuovi che già si fermano per strada voi questa mattina siete andati a chiederlo direttamente all'AMTAB il motivo io ringrazio in primo luogo la commissione enti partecipati che ha condiviso la mia iniziativa di recarci direttamente presso la sede dell'AMTAB per chiedere le motivazioni per le quali questi autobus nuovi si fermavano il direttore e il presidente hanno rappresentato che questo è di peso da dei sensori per la pedana che accompagna i disabili all'interno dei mezzi e per dei vetri che sono stati montati male in corrispondenza dell'apertura delle porte che si sono rotti quindi sono molti i mezzi ricoverati che vedranno la sostituzione di questi vetri e per quanto riguarda i sensori stanno studiando un sistema per superare questo motivo che blocca il funzionamento dell'autobus perché è come se desse la portiera aperta in tal senso abbiamo chiesto una maggiore ovviamente attenzione e ci siamo domandati del perché per come questi autobus nuovi siano giunti in queste condizioni loro hanno garantito che tutti questi costi saranno ovviamente a carico dell'azienda che ha realizzato questi autobus le novità sono anche che è intenzione dell'AMTAB voler iniziare ad acquistare degli autobus elettrici se ne parla di 4 nei prossimi anni per iniziare quindi un percorso ecologico anche all'interno della città adesso parliamo di uno spettacolo l'intervista Teresa Leitz concertista del gruppo musicale spagnolo il concerto si terrà domani nell'auditorio un replicando e l'alma Teresa Leitz ma bisogna nascere spagnoli per suonare così bene le nacre è così difficile? non è così difficile si impara rapidamente a suonare Las Castagnuelas e dal primo minuto le persone imparano ci spiega il senso dell'uso io richiamo volgarmente nacre insomma in Spagna qual è il significato perché è una tradizione tutta vostra? le Castagnuelas hanno una tradizione molto larga comincia lunga comincia dalla preistoria si usano in altri paesi non solo in Spagna però in Spagna è dove hanno una tradizione molto più lunga che evoluzionano più fino al nostro sappiamo che lei sta fondendo un po' quella che è la tradizione con un aspetto innovativo cioè far parlare da solo le nacre insomma non nel contesto non di affiancamento non di accompagnamento ad altri strumenti musicali ma concerti dove la nacre è assoluta protagonista sì sì le Castagnuelas antiguamente nell'antichità le Castagnuelas si utilizzavano per accompagnare la danza ma ultimamente sono diventate strumento solista nei concerti certo solista di orchestra secondo lei quanto tempo ci vuole per imparare i fondamentali di questo strumento a ver lo basico si può apprendere ma sopra in un anno le basi in un anno cominciare a suonare bene in tre anni e in cinque anni diventare concertista concertista e allora ci fermiamo breve prosa pubblicitaria restate con noi tra poco parleremo di cucine d'autore e con il direttore di Stammi Bene il mercato con cucina tra poco un ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo scopriamo insieme la tendenza per la giornata di venerdì che vedrà ancora alcuni settori dell'estremo sud bagnati da questa perturbazione in lento movimento verso est verso Grecia e Balcani però appunto abbiamo segnalato in giornata ancora tra Molise Puglia Basilicata Calabria ed alcuni settori della Sicilia qualche occasionale piovasco qualche fiocco di neve sulle zone interne dell'Apennino Meridionale a quote basse migliora invece il centro nord e ce lo conferma anche la prossima grafica ritroviamo di fatti delle belle aperture del cielo anche in Sardegna regioni appunto centro settentrionali il fronte nuvoloso che piano piano si muove verso est direzioni Balcani andiamo a vedere la prossima grafica ci fa vedere appunto il bel tempo su molte zone del nostro paese ultimi fenomeni all'estremo sud clima qui ventoso venti da nord con mari molto mossi giornata un po' freddina questa volta anche sul basso adriatico dettagli più precisi come sempre sull'app di Trevi Meteo si dice solitamente mensana incorpore sano e quando si parla di benessere psicofisico ovviamente la cucina è molto importante o meglio l'alimentazione e allora ne parliamo con Alessandro Milella direttore di Stammi Bene buonasera e benvenuto buonasera a voi grazie dicevamo Stammi Bene è un po' un concetto in questa frase avete voluto giocare con le parole per ribadire un concetto fondamentale all'interno del vostro locale cioè quello di coniugare la buona alimentazione con la qualità dei prodotti assolutamente sì Stammi Bene innanzitutto è un augurio nasce come un saluto normalmente ci si saluta e ci si augura Stammi Bene noi poi abbiamo pensato questo nome perché volevamo che il nostro la nostra cucina con mercato fosse un po' il luogo dove il benessere si coniugava con un sentimento di cordialità e allegria e quindi Stammi Bene anche tu ciao dove i nostri ospiti possano comunque sentirsi a casa e mangiare bene e possiamo definirlo un concept store dedicato sull'alimentazione perché è aperto dalla mattina fino alla sera quindi accompagnato in tutte le fasi della giornata i vostri ospiti assolutamente sì noi siamo aperti dalle 7.30 di mattina fino a sera inoltrata e tutto ciò che in Stammi Bene potete mangiare è prodotto all'interno di Stammi Bene stesso quindi sicuramente attenzione alla qualità attenzione alla presenza di qualcosa che possa renderci diversi da ciò che fino ad oggi abbiamo avuto modo di conoscere di anche mangiare attenzione alla qualità dei prodotti attenzione all'accoglienza dei nostri ospiti e attenzione alla nostra terra perché siamo fortemente orientati verso ciò che deriva dalla nostra terra Puglia la promozione del nostro brand quando si parla di alimentazione che conservate anche nel mercato dicevamo il mercato con cucina perché si può non soltanto mangiare nel frattempo state vedendo gli interni della zona questa è la zona che ha la cucina a vista sono dei tavoli in cui si può mangiare anche stuzzicare qualcosa stammipronto diviso in aree tematiche vere e proprie quindi abbiamo all'ingresso lo stammialbar che stiamo vedendo in questo momento ovvero è una zona dove la mattina potete trovare la cornetteria prodotta dal nostro maestro pasticcere Michele Zambetta e potete trovare dolci di ogni genere sempre prodotti al nostro interno e sempre nella stessa zona di fronte al bar abbiamo lo stammipronto lo stammipronto è un qualcosa di innovativo che stiamo cercando in qualche modo di inculcare nell'idea del consumatore pugliese ovvero prendendo spunto dal pret-à-manger che si trova normalmente nel nord Europa la nostra cucina quotidianamente prepara dei piatti stagionali freschi da portare via quindi possono essere durante il periodo estivo delle insalate piuttosto che riso venere o qualunque qualcosa di fresco durante il periodo invernale abbiamo cercato di concentrarci su qualcosa di un po' più energetico e caldo come magari delle zuppe di legumi o prodotti di questo genere sono a disposizione dei nostri clienti in questa grande spalliera dove appunto come normalmente si fa nel pret-à-manger si può scegliere prendere pagare in cassa e portare via e mangiare un prodotto fresco di giornata direttore c'è grande attenzione anche al cibo e soprattutto alla filiera corta ricordiamo che i vostri menu sono firmati dall'ex executive chef Antonio Scalera sì Antonio è uno dei valori aggiunti o probabilmente il valore aggiunto che Stami Bene ha sicuramente la sua presenza la sua maestria e la sua capacità anche di indirizzarci verso la giusta via dell'alimentazione di questo periodo storico hanno reso Stami Bene differente rispetto a tutti gli altri prodotti del momento come si colloca Antonio all'interno di un locale come Stami Bene si colloca come una persona che ha in questo momento una fortissima attenzione rispetto magari a ciò che era su abitudine anche alla Bull ha una fortissima attenzione verso il prodotto che possa essere di qualità e anche in grado di rispettare appieno determinate caratteristiche di benessere e poi la filiera corta di cui parlavamo perché ci siamo impegnati a cercare una serie di fornitori che possono essere a chilometro zero quasi ovvero dei fornitori nostri locali pugliesi per come dicevamo prima far sì che il prodotto Puglia possa integrarsi perfettamente all'interno di un mercato con cucina come Stami Bene quindi dalla carne ai formaggi fino a tutto ciò che quotidianamente entra nelle nostre cucine laddove è possibile facciamo in modo che sia che provenga dalla nostra terra per far capire direttore quale sia la filosofia del gusto e anche di questo locale voi non avete imposto la vostra offerta al pubblico ma avete interpretato i desiderata del pubblico attraverso i cento ambasciatori del gusto ci spieghi meglio che cosa sono questa probabilmente o sicuramente anzi è un'idea innovativa ovvero noi abbiamo fatto in modo come appunto dici tu che Stami Bene nascesse non dalla nostra idea o meglio c'era un'idea embrionale ma abbiamo fatto in modo che questa idea poi venisse in qualche modo migliorata perfezionata se non quasi totalmente a un certo punto poi integrata dalle idee di cento ambasciatori del gusto che abbiamo scelto tramite il nostro sito internet quindi abbiamo dato possibilità a una serie di persone che rispettassero determinati requisiti di proporre le loro idee i loro sogni in effetti rispetto a un mercato con cucina e ci siamo adoperati affinché questi sogni diventassero realtà ne cito solo alcune perché sono davvero molto interessanti c'è chi ha chiesto una sorta di spalliera con i cibi fermentati chi ha chiesto la tracciabilità e l'identità del territorio nei prodotti la contaminazione di piatti tipici con altre cucine e altre culture e poi la stagionalità sono questi per esempio degli ingredienti che ritroviamo all'interno della cucina di Stami Bene assolutamente sì cito per ultimo la stagionalità la stagionalità non solo viene ritrovata all'interno dei piatti di Stami Bene ma poi ci è piaciuto anche grazie al contributo di Cucina Mancina e Lorenza D'Adduzio che ci hanno seguito in questo percorso ci è piaciuto anche la stagionalità renderla evidente tramite una parete che è presente all'interno della nostra sala ristorante dove ci sono a seconda dei periodi dell'anno esposti dei disegni molto originali che vediamo in questa immagine con i prodotti di stagione che dovrebbero essere sempre presenti nei nostri piatti e che nei piatti di Stami Bene sono presenti quindi abbiamo unito ci sono anche tutti gli effetti benefici di ogni ortaggio di ogni prodotto lo dico perché li ho letti e quindi è davvero interessante scoprire le finalità e poi abbiamo cercato di renderla evidente anche nel nostro noi lo chiamavamo giocando un po' il nostro fiume secco ovvero questo fiume che si estende lungo il pavimento sotto il pavimento protetto da una vetrata all'interno del quale abbiamo messo inizialmente una serie di legumi e con il tempo li abbiamo anche integrati e modificati perché potessero rappresentare anche lì la stagionalità del periodo e quindi è visivo ed è un colore che rende unico il pavimento è quasi un percorso sensoriale tra l'altro grande attrattiva dei bambini i bambini protagonisti di Stammi Bene lo posso dire perché l'ho testato personalmente è un locale indubbiamente femmini friendly non soltanto perché c'è una grande attenzione per i bambini ma ci sono anche menù tarati sulle donne in attesa benvenuti in una città che è poco femmini friendly in questo senso assolutamente sì ci sono menù tarati sulle donne in attesa ci sono menù tarati sugli sportivi ci sono menù tarati su una serie di segmenti di clientela che in qualche modo abbiamo voluto ascoltare torniamo un po' al discorso delle ambasciatori del gusto perché anche tra le ambasciatori del gusto c'erano alcune richieste specifiche che ci chiedevano proprio di per la prima volta riuscire a dare risposta alle richieste di chi ha delle esigenze particolari in tema di alimentazione o semplicemente dei desideri in tema di alimentazione insomma se siete a dieta potete andarci anche perché ci sono queste formidabili di vaporiere con molte verdure e anche pesce assolutamente dietetico che si può come dire adattare alla propria dieta ci saranno però anche degli eventi le cene di autore che finiscono a giugno e iniziano proprio adesso a marzo una sorta di master chef in salsa pugliese però con chef decorati no? Sì diciamo che lo abbiamo chiamato duetti perché anche qui è un gioco di parole duetti perché sono due chef che giocheranno tra loro ma anche i duetti del classico della classica richiesta in gastronomia duetti infatti quella che faccio lascio abbiamo voluto giocare anche qui con un po' con la simpatia sono serate quattro nello specifico che inizieranno a fine marzo e si concluderanno a giugno dove Antonio Scalera sarà protagonista di volta in volta con un'altra eccellenza della nostra cucina pugliese e quindi la prima serata sarà con la nostra carissima amica Maria Cicorella del Pascià di Conversano e di seguito poi avremo altre occasioni il 28 marzo poi avremo il 18 aprile con Stefano Donghia poi avremo Domingo Schingaro e chiuderemo con Riccardo Barbera e quindi giocheranno giocheranno a sfidarsi ci sarà un vincitore quindi tra i due o no? ma i vincitori saremo noi che assaggeremo e avremo modo di mangiare le favolose proposte dei nostri chef Prima di chiudere visto che non vi fermate mai c'è ancora c'è qualche altro progetto in cantiere? Di progetti ne abbiamo tanti chiaramente sarebbe folle se dicessimo no? ci siamo fermati e siamo contenti di quello che abbiamo anzi di progetti ne abbiamo tanti abbiamo idea di creare un format stami bene nasce come format nasce per essere riprodotto e allargato tante volte quando chiedono a me e a Francesco Pomarico che è la proprietà la mente vera di questo progetto come vi vedete tra un anno noi abbiamo risposto più di una volta incinti e questa risposta racchiude tante cose racchiude l'idea di riprodursi e racchiude i progetti che abbiamo segreti nel nostro cassetto che apriremo a breve allora siamo in chiusura non mi resta che ringraziare Sando Mirella direttore di Stami Bene grazie per essere stato con noi e grazie a voi come sempre per averci seguito l'appuntamento torna più tardi arrivederci grazie a tutti